E siamo alla politica, la deputata nazionale dei radicali Rita Bernardini è sbarcata a Catania per visitare il carcere di Piazza Lanza e parlare di amnistie e delle condizioni in cui versano le case circondariali del paese. È stato uno stato di diritto, qual è l'Italia, dice la Bernardini, i detenuti non dovrebbero vivere in situazioni di degrado simile. Il vero pericolo è vivere in uno stato delinquente. Non hanno dubbi gli esponenti del partito radicale che continuano a portare avanti la battaglia contro il degrado delle carceri italiane. Uno stato di cose per cui il nostro paese ha incassato gli ammonimenti da parte dell'Unione Europea, delle associazioni per i diritti umani e civili e da ultimo del capo dello Stato, Giorgio Napolitano. E in vista delle elezioni di domenica e lunedì prossimi, i candidati della lista Amnistia, Giustizia e Libertà, guidati dalla capolista alla Camera per la Sicilia orientale Rita Bernardini, stamani hanno incontrato gli organi di informazione davanti all'ingresso colloqui del carcere di Piazza Lanza, ribadendo la necessità di rivedere la politica carceraria responsabile della presenza di circa 65.000 reclusi a fronte di una capienza complessiva massima delle case circondariali italiane di 45.000 posti. Amnistia nessun pericolo per te, questo è lo slogan scelto dal partito per sensibilizzare l'opinione pubblica. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha detto all'Italia, siccome non ci fidiamo del tuo comportamento perché non hai fatto niente in tutti questi anni, adesso entro un anno, per cortesia, devi rimuovere le cause strutturali che portano a questi trattamenti. La stessa cosa ha fatto sull'irragionevole durata dei processi, cioè sono 30 anni che l'Italia dice farò questo, farò quest'altro e non ha mai fatto niente. E la capolista alla Camera per la Sicilia orientale Rita Bernardini ha poi posto l'accento sull'importanza di garantire anche ai detenuti in attesa di giudizio il diritto di esprimere il proprio voto e partecipare così alla tornata elettorale del 24 e 25 febbraio. Stiamo facendo anche questa opera cercando di sensibilizzare i direttori, certo ieri siamo rimasti a bocca aperta perché a Messina zero detenuti avevano fatto la richiesta di votare e a Catania quattro, quando invece per la presentazione della lista con Gianmarco Ciccarelli e altri militanti radicali erano state raccolte ben 350 firme, quindi 350 avevano diritto di voto. Come mai poi non votano?